Dopo i 340.000 visitatori registrati nel 2017, il mercato internazionale di Arezzo, giunto alla 14esima edizione, punta ad un nuovo record e un primato è già stato raggiunto con oltre 270 stand. Saranno quindi 175 gli operatori stranieri provenienti da oltre 35 nazioni, un vero e proprio giro del mondo per palati fini. Il mercato internazionale si estenderà per oltre 6.150 metri quadrati coinvolgendo 10 strade e 3 piazze di Arezzo. Un evento diffuso che per l'edizione 2018 punta a coinvolgere tutto il centro storico con l'apertura straordinaria dei negozi sabato 20 ottobre. Molti hanno già dato la loro disponibilità per prolungare l'orario di apertura fino alle 23. Noi lottiamo sempre contro i record, però ci tengo a presidansare che questi tipi di eventi sono soltanto per stare vicino agli imprenditori e per portare attenzione sulla nostra categoria. La scommessa è stata grande, ogni anno si popolano le nostre strade sempre di più delle tradizioni e dei prodotti del mondo, ma aumentano molto anche le nostre attività. Siamo arrivati a un centinaio, è davvero un'eccellenza del nostro territorio e devo dire che è un appuntamento che comunque non solo gli espositori, ma tutti gli aretini aspettano, perché riescono in questo percorso a trovare tutte quelle che sono le preibili battezze del mondo che gli servono poi per l'anno che verrà. Tanti gli eventi collaterali e l'edizione 2018 si contraddistingue per la presenza record anche degli espositori locali della provincia di Arezzo che salgono infatti a 95, una grande vetrina per le eccellenze di casa nostra. Questo direi che è diventato un appuntamento assolutamente importante, è indiscutibile e oggettivamente vero che questo evento è capace di attrarre a sé tantissime persone che vengono dall'intera Italia centrale e non soltanto. Quindi sarebbe sciocco non approfittare un evento di questo tipo per andare a promuovere il resto della nostra città, il resto della nostra imprenditoria. Come Camera di Commercio abbiamo sempre fatto, esercitato delle pressioni da questo punto di vista, perché ovviamente come ente pubblico che vive della tassazione delle imprese del territorio e il nostro intento è quello di andare a promuovere l'intento delle imprese del territorio e quindi non può che non essere altrimenti.